Lo sconcertante episodio della donna trovata a terra insanguinata questa mattina davanti ad un'abitazione di via Montenevoso a causa di ferite alla testa procurate da un mattone ha avuto una modalità di soccorso estremamente turbolenta. L'ambulanza intervenuta in zona Tombaccia valutando la gravità delle ferite riportate ha infatti ritenuto necessaria la chiamata dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza al torrette di Ancona. L'eleambulanza è atterrata alle 9 nella strada statale adriatica non lontano dall'intersezione con via Milano. Nello specifico è atterrata a due passi dal bar Aroma di Caffè nel piazzale di un'officina dismessa. Qui però la forza d'urto rotativa delle pale ha divelto e sradicato un pannello pericolante affisso alla parete dell'officina in questione. Si è creata una pericolosa centrifuga di pezzi di lamiera e frammenti metallici volati ovunque all'impazzata fortunatamente senza colpire nessuno. Il tutto fra lo stupore e lo spavento dei passanti, pedoni e automobilisti in una delle zone dal traffico più congestionato della città. È sceso l'elicottero, io sono uscito per tirare sulla tenda perché me la stava portando via con l'elica, questa forza di strumento qui, ha risucchiato la tenda, l'insegna del franco gomme e se l'ha tagliata tutti questi pezzi di lato, ferro che sia, li ha buttati verso la strada fortunatamente non c'era nessuno. L'impatto dei frammenti metallici con eliche e rotori dell'elicottero ha però lasciato a terra l'eliambulanza, che non ha potuto effettuare il soccorso, delegato dunque all'ambulanza del 118, per il trasporto in ospedale in codice rosso. Elicottero che è dovuto rimanere a terra per ore a causa delle doverose verifiche e accertamenti del caso sui danneggiamenti subiti dal mezzo.